...e ai nostri giovani per ottenere una casa popolare, ma quando io sento che un nostro anziano che ha lavorato una vita viene sistematicamente scavaccato nella graduatoria per la casa popolare, io mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno come piemontese, mi vergogno come uomo politico e so che la Lega è nel giusto quando dice certe cose, così come quando vado al pronto soccorso, parliamo della sanità, e vedo che si sta in coda tre ore e poi qui dovremmo fare un ragionamento, si dà il nome, si sta in coda tre ore, vuol dire che più qualcosa non funziona e anche qui mi vergogno come piemontese e so che la Lega è nel giusto, ecco questi sono temi, sono temi la finestra e non ci penso più a queste cose, PD, partito del palazzo o partito degli immigrati, ossessivamente, questo non vuol dire che gli immigrati non abbiano, non debbano avere dei diritti, certo, di giusti, dei diritti e anche dei doveri però, mi sembra il minimo.